Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Maria Teresa Ruta ha ricordato in un'intervista al Corriere della Sera il suo matrimonio con Amedeo Goria, finito a causa dei ripetuti tradimenti di lui. Il primo incontro è avvenuto grazie al lavoro, negli anni 80 erano entrambi giornalisti sportivi. Mi giurò, sono innamorato davvero, per te potrei anche fare un matrimonio bianco, non ho fretta. Di sicuro è stato un matrimonio d'amore. Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre. Erano ingenuità, dovute alla sua insicurezza cronica, ma allora le ho vissute come un affronto e a un certo punto non ho più perdonato. Maria Teresa Ruta ha scoperto i tradimenti dell'ex marito Amedeo Goria, trovando scontrini del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tali Giannette o Yasmin. E poi c'era una chiacchieratissima agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi. La nascondeva, un giorno l'ho vista. C'erano annotati almeno 2000 numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio. Per carità, forse l'ho trascurato anch'io, troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile.